Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Da un po' di tempo Google sta lavorando su uno smartphone modulare e potrebbe anche presentarlo nel giro di qualche anno. Ma prima di tutto, che cos'è uno smartphone modulare e perché questa notizia è così importante? Beh, la particolarità degli smartphone modulari è che possono essere realizzati a seconda delle necessità dell'utente. Ogni componente interna può essere sostituita facilmente. In questo modo si può aggiornare il telefono con nuovi pezzi senza la necessità di comprare un dispositivo nuovo. E non è la prima volta che Google si lancia nello sviluppo di uno smartphone modulare. Infatti già negli anni passati era stato presentato il project ARA, ma il dispositivo poi è stato cancellato nel giro di pochi anni. Il progetto del nuovo smartphone modulare è stato anticipato dall'ufficio brevetti statunitense che ha pubblicato le immagini del brevetto sul proprio sito internet. Google aveva presentato il progetto a settembre 2018 e ha ricevuto il brevetto a gennaio 2019. Le foto permettono di capire come sarà lo smartphone modulare. Il dispositivo sarà diviso in tre sezioni, ognuna caratterizzata da alcune componenti che potranno essere poi rimosse e sostituite. Ma come sarà questo smartphone modulare di Google? Beh, nella prima sezione trovano posto le componenti principali del dispositivo, i chipset, la batteria, il display e alcuni sensori. Nella seconda invece ci sarà posto per la RAM, la fotocamera e uno schermo secondario. Se l'utente ovviamente vorrà inserirlo. La terza sezione servirà da collante per proteggere il dispositivo dalle cadute. Questa scocca posteriore potrà essere realizzata in diversi materiali soddisfacendo qualsiasi necessità dell'utente. Essendo il dispositivo modulare, l'utente potrà decidere in qualsiasi momento di sostituire una delle componenti e quindi di migliorare le prestazioni del telefono. In questo modo non sarà necessario acquistare un nuovo smartphone quando le prestazioni del proprio dispositivo cominciano a diminuire. E ve ne ribadire però che si tratta solamente di un brevetto e non è detto che lo smartphone modulare arrivi veramente sul mercato. L'unica cosa certa è che Google sta lavorando sul progetto e in futuro, oltre al Pixel, potrebbe lanciare una nuova gamma di smartphone. Che dire, il video di oggi si è concluso qui. Spero che vi sia piaciuto, in tal caso lasciate un mi piace, condividete e soprattutto seguite la pagina Instagram del canale, il cui link è in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Adios!